Buongiorno, sono Federico Silvestro, presidente della società E-Solution, spin-off dell'Università degli Studi di Genova. Noi ci occupiamo di energy efficiency, di monitoraggio dei consumi in tempo reale e di tutte quelle policy per ottimizzare i consumi energetici nei processi e negli edifici. In particolare, volevo raccontare l'esperienza di un progetto recente sviluppato in collaborazione anche con altre società e con l'università stessa, dal nome PREDICT, che ha l'obiettivo di predire il comportamento degli edifici e renderli intelligenti per quanto riguarda la modalità di consumo dell'energia elettrica ai fini del climatizzazione. La climatizzazione è uno degli elementi più energivori all'interno degli edifici, rappresenta intorno al 40% dei consumi dell'edificio stesso e poter aggredire e renderli più flessibili e più rispondenti alle condizioni esterne e dell'occupanza delle persone è una chiave di ottimizzazione. L'approccio che abbiamo utilizzato è basato su reti artificiali, quindi intelligenza artificiale e stima delle previsioni meteo per poter intervenire sul comportamento del sistema di HVAC, cioè di Heat and Ventilation. Attraverso questo modello predittivo noi siamo in grado di ottimizzare i consumi e di ridurreli tra il 5% e il 15%. Questo permette di rendere gli edifici più flessibili, avvicinarli al concetto di Smart Readiness Indicator che è un indicatore della flessibilità degli edifici e migliorare la consapevolezza dei propri consumi.